ma ti dico una cosa non è che critico non parlo di nessuno no però io quando andavo da lei mi sentivo come un re perché non ti senti come un re sì ma Matteo non vedi qua cosa succede arriva il principe azzurro nel salutino e lei se ne va ma che cazzo stai a te ma che cazzo sta di te ma di che cazzo stai a parlare ma di che cazzo sta a parlare a te che bella ma che cazzo stai a fa ma che cazzo sei ma che cazzo ma che cazzo la sono fatti cazzo ci vuole ma no cazzo andate ma saranno cazzo i nostri ma fate un po come cazzo vi pare se ne è andata già prima forse e vabbè ma si deve svegliare le sette è andata a dormire perché si sveglia le sette devo anche fare scrivere a viaggio dei messaggi perché carmen io ho detto carmen collegami sul discord e ci rimandiamo in discord no sul disco non succede ancora niente allora io non so che devo pensare ma vero pensi male voi gioa non è che penso male no non è che penso male e neanche preso in giro però è un dubbio che io non so cosa fare comunque gioa ricordati che devi far vedere lo sputo a orazio l'ha già visto io ho visto ho visto quando l'hai visto ho visto il mondo ho visto la stampa rod ha fatto vedere io mi lo faccio vedere il viaggio mi sa vabbè però è più bello cioè è preciso dalla finestra dai orazio dimmi una canzone che te la canto in che senso ha detto ti vuole dedicare a canto io non ho sentite parecchie guarda io ti dico una cosa gioa a piacere tuo perché non so i tuoi gusti musicali non so la tua conoscenza io so quali sono quelli che canta meglio quali sono lui è bravo a cantare maledetta primavera poi io per lei pure la sa bene se vuoi amore impossibile no quella no scherzo ok quella la san matteo memoria quella scritta sul divano macchie bianche che parlano ah si affa pure il freestyle rap si affa pure le canzoni rap approccio a la seconda parte arrivata la seconda parte non puoi dirmelo così mi sono dimenticato su youtube indicati certe cose su youtube quello di con una mia ma come vado a vederlo che sei addio fermi tutti no ma te me metti la metti la metti la fa la partì poi conviderlo lo schermo è meglio di no no l'audio 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 no devi vedere il video l'audio non ha senso devi vedere il video 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 canzone no magari o magari no dai perché potrebbe essere bannabile come cosa noi vediamo e vediamo e vediamo e vediamo e vediamo e vediamo grazie può guardarlo senza conviderlo lo schermo però la canzone si può cantare no ma è una canzone che porta temi un estratto di live no è meglio canta canzoni d'amore proprio il suo genere esatto però matteo puoi guardare il video se vuoi lo sto guardando ok ok la gioca più sul pezzo ok lascialo guardare il canto mai gioca canta 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 che ti passa l'incazzatura per carmen ma non sono arrabbiato con la carne nel tutto il posto capisco non so deve lavorare domani che non stanno a lei non è in vacanza in vacanza carmen ma che sbira le sette in vacanza ma sei sicuro dice ma è in vacanza presi sbira le sette è perché comunque è in vacanza questo dormito il giorno ma ah ok ok perché va girando va facendo i giri sta in durchia ma sta in durchia quello comunque gira al giorno ma che ciò si sveglia presto come giusto va a visitare tanti posti a me dai ora ti canta una canzone canta 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 gioia io tra poco vado via si abbiamo cose le tre sei manco ragazzo parli chiudi a chiave la porta mi fa in poco pena un ceffone sul viso a letto senza cena quel rossetto tuo padre non è andato giù e ti bruciano ancora quelle cinque dita mentre asciughi gli occhi ma non sei pentita babbo me la paghi domani scappo via ti avvicini allo specchio no god no god please no 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 si rivia la donna mica male le gambe sembri già una donna un bottone poi un altro e la camicia c'è guala vola sopra il comò e le scarpe più o meno la stessa fine quelle calze pian piano come visto al cine poi ti alzi in piedi e quel che avevi non l'hai più stai piangendo guardi in giù se il tuo seno è un po' di più sei un po' cresciuto tiri su i tuoi capelli fai le facce strane come un filmuto sarà peccato giuro non lo faccio più caro gesù giuseppe maria siate la salvezza e l'anima mia la camicia da notte quella di tua nonna poi ti soffi il naso metti a posto la donna togli via rosetto e con l'acqua del cattino ci ha andato in là ti fai un giro di waltzer con il tuo cuscino fai metà del pane con il canarino poi con gran salto fin sopra il letto plà sai che te dico ma hai rotto la fodera del cazzo te saluto ecco qua come cena pane d'unghie non ti piace pane d'unghie non ti piace cosa fa quel fumetto poi ti va perché l'attore è bello udace il segno della croce poi lo metti io caro gesù giuseppe maria vi dono il cuore l'anima mia chi si allunga un trave mai che hai da pensare la faccina è grave tra mollic e zanzare pancia sotto di fianco ben risorso l'acqua ti rigiri ma dentro tu sai grande e poi per guardarti ancora nello specchio tiri sulla camicia e ti alzi su in ginocchio c'è rumore smorti il lume e buonanotte al secchio tra tenni va va cagare va ma 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 Grazie a tutti.